ok ragazzi continuiamo l'avventura di Gritfall, siamo sempre alla ricerca della sciamana che si è adentrata dentro questa caverna allora io sono andato un attimino nel termine della prestata precedente al falò, sono andato a costruire un po' di cose, qua li avevo già sconfietti sono andato a costruire un po' di pozioni, purtroppo ho terminato il biancospino, che in realtà si trova abbastanza facilmente, però in questo caso l'ho terminato, ecco di qua, quelle li non possiamo passare perché non c'è abbia l'abilità del salto, quindi niente, dobbiamo per forza intraprendere questo percorso un po' più lunghetto, con molti più pericoli, suppongo, e questo dovrebbe essere biancospino, no non è vero, allora qui abbiamo altri due passaggi, un'altra qui ehm, vabbè, mi sono uccide, eh vabbè che pareva, oh, che me ne sbucavano mille, che pareva, e vabbè niente, qua c'è da combattere, vabbè stantulo, porca vacca, dai, dammi st'antidoto, ma più caldo perché abbiamo, abbiamo poche funzioni e poi abbiamo fatto, che è, mamma mia, ma sono fortissimi ci stendono subito queste, eh, ci stendono in due secondi, possono essere partito con i dorati? sono già morti tutti sono fortissimi e uccidiamo anche questi vai, 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 attaccate, attaccate comunque da con la tizia con l'altra tizia adesso mi sfugge il nome quella che spara stavano avendo molto stavano avendo molto meglio i combattimenti ma quando ho preso la maga almeno che raga, quella maga non gli do un anello quello potente e magari ci do una mano perché allora io ho questo anello qua ehm l'anello del diacono allora vediamo un attimo ah, lei c'è una spada c'è una spada ma fa anche le magie vabbè ehm pensavo di poterli mettere l'anello non è che magari ehm allora vediamo un attimo a lei posso toglierle la spada no, ma poi ho lasciato tutte le armi all'accampamento adesso sinceramente non c'ho voglia di ritornare indietro ehm di ritornare nuovamente indietro poi comunque abbiamo due vie noi abbiamo intrapreso mhm questa qua è di destra ma si può in realtà si può anche andare da questa parte quindi boh vediamo mi sembra molto difficile però quest'area piena di pipistrelli dai tanto lo so che adesso scendono i tuoi amici del cielo facciamo così vai vai uccidi 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 sento ringhiare dall'altra parte secondo me abbiamo preso la strada più facile ho questo presentimento allora di qua prendi tutto qua si divide ancora il percorso a destra e a sinistra in teoria sono tentato ad andare a sinistra però voglio vedere che che c'è anche da questa parte raccoglie grande falce ok abbiamo preso un'arma credo o forse un oggetto che che serve per completare qualche missione ok e qui e qui torniamo indietro e come ci arriviamo a no for fuori questo raga ho potenzato un po' la magia avete visto come lancia velocemente l'incantesimo guardate come come faccio attacchi a ripetizione vediamo tutto ok allora ok noi potevamo svoltare qua subito a sinistra ok va bene va bene almeno abbiamo esplorato a fondo il dungeon spara 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 che parola siamo in tre chi è attaccato attaccato me allora antidoto mio 9 ok adesso quando usciremo da sto dungeon andrò a farmi una una scorta di bianco di bianco spin infinita o lo compro dai mercanti in modo tale che mi faccio un sacco di pozioni che sto a posto per un po' qui forse possiamo far saltare la parete ok e di qua si può passare però qua secondo me ci sono altri nemici allora andiamo andiamo di qua perché io ho risorse limitate se ingaggio troppi fight io ho paura di arrivare al fine dungeon con questo qua era l'altro percorso che potevo ne intraprendere ho paura di arrivare al fine dungeon senza ok 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 e qui praticamente ritorniamo dove eravamo all'inizio solo che vedete questa parte qui noi non potevamo farlo perché non c'era una roba senza vigore quindi il nostro obiettivo è poi in fondo allora prendiamoci però pozione cortiva ne abbiamo 22 ovviamente 22 pozione cortiva pensavo di averne di meno e andiamo a vedere che c'è anche dall'altra parte magari troviamo qualche arma particolare da raccogliere così qua l'altro passaggio diamo giusto una sbirciatina no però ci sono questi che sono tosche ho fatto una cazzata ho fatto una grandissima una grandissima cazzata che cazzata non li faccio niente ragazzi meno 14 con questi se non usi se non usi la magia con questi non li fai niente qua ci conviene veramente utilizzare un direttamente la pozione del mano accatenare più attacchi possibile anche se è visto si è visto vai attacca attacca ah ma lei mi fura no me ne sono accorto di sta roba ok vabbè è stata una cosa un po' inutile quella che abbiamo fatto perchè potevamo passare dall'ingresso che avevamo aperto però almeno abbiamo recuperato abbiamo ucciso un po' di mostri mi sono saliti un po' di livello e inoltre ci siamo accertati che che qua effettivamente non c'è non c'è davvero nessuna arma particolare da raccogliere niente possiamo ritornare direi al a dove eravamo rimasti a dove eravamo rimasti a dove va visto che è anche piccola visto che è molto probabilmente aiuto è bloccato non riesco più qua Mr. Evil è un mago qua Mr. Evil è un mago aspetta 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 no io voglio eliminar lui se me lo fai fare è mio raga sto gioco qua tutto è bugato dai tu tu che stai attaccando un guain per natura pochina operativa migliorata com to' di Ness, tiri! Facci un posto se vuoi castare più spazi! Vediamo se puoi guardare questo fai! Poi raga... Appena esco, faccio un vado al mercato, faccio un po' di roba... Sistemo tutto, perchè... Se ci troviamo in un dungeon del genere, in mezzo al dungeon, che siamo sprovvisti di roba... Siamo fregati! Qua non scende nessun mostro? Siamo fregati, perchè poi dopo devi ritornare indietro a uno sbattimento, devi viaggiare, andare, ricomprare, devi lasciare la missione a metà... Quindi devo partire più rifornito la prossima volta... Purtroppo giocato... Giocato in livello difficile comunque ti richiede molto più... Molto più impegno e quindi anche molto più utilizzo di pozioni... Biancospino... Biancospino... Trappola... Spero che seguire quella strega oltre la porta fatta di radice era una pessima idea... La bestia cornuta che abita questo luogo non era felice della nostra presenza... C'è un boss raga... Uno dei miei compagni è stato ferito gravemente e io ho troppo paura per tornare a prenderlo... Quanto amano sono bloccato qui e probabilmente morirò di fame... Ho provato di tutto, a un certo punto ero così infuriato che ho fatto perdere l'equilibrio della bestia... Ma purtroppo poco dopo si è rimesso in piedi e sono dovuto fuggire... Maledetto sia il professore e la sua stupida ricerca... Trovo gli appunti... Io non... Gli appunti non li sto facendo sinceramente... Cioè se li trovo li prendo ma... Vabbè ragazzi andiamo avanti... Prepariamoci a una boss fighter... A una tosta boss fight... Sono contento comunque che... Hanno permesso... Mi hanno permesso di intraprendere... Una sessione un po' più... All'esplorazione perché... Sinceramente ero un po' stanco di tutte quelle missioni in città... Quei lunghi dialoghi... Ho voglia proprio di questo... Di andare in giro... Sterminare bestie... Esplorare nuovi... Nuovi territori... Anche se le ambientazioni... Sono un po' simili... Tendono... Tendono un po' a... A ripetersi purtroppo... Tutto... È qua... È braccata... Allora... Allora... Un f Divino... ... Un fredrato... Un fredrato... Un fredrato... ... Ehm ma se la prende con noi Ehm che pareva Non rifaccia niente raga dobbiamo Dobbiamo togliere l'armatura Via Dai che un pochino L'avevo in tolta Via Porca vacca Questo qua ragazzi ci prende e ci sciocca Ecco infatti Via 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 Ok ora possiamo Pozione rianimante Ehm Pozione curativa Ehm unguento per l'armatura Arca vacca Era partita l'animazione Ehm Pozione curativa Ehm Prendiamoci anche unguento perché Via 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 Guardate via 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 Ahh Guarda di pozione curativa Via 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 Eh Eh purtroppo Quando la spada è in mano Le schivate sono Sono più corte Non posso utilizzare l'abilità Via Ok Eh Eh Proviamo un luogo di Il luogo di pistola Ok Via 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 Questo è tosto Tosto Dai Via Madonna Madonna Attaccatelo voi ragazzi Attaccatelo voi Eh Pazione corretiva migliorata Via Non rischiamo Pugliamoci subito Munguento Ok Vai 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 Giù No 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 Tego Damn Damn No Vado Vado Abbo Lì No Oh 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 No We didn't want this fight No Chi è che ha sparato No Why Why In order to capture and extract from her what we need To examine her Dissect her If necessary You have done us a great service Guiding us directly to her Are you saying that Even if the creature has concocted some remedial potion It is not the song we came for But the bird She leads the sorcerers of this island She knows how they transform and from where their powers originate Our scientists think that the remedy is there in their pseudo magic and in their mutation Thank you for bringing her to us And ridding us of the monster Do you think I'm going to allow you to manipulate me? I don't think anything Apologies, excellency But you are going to die tragically from a stray bullet intended for the monster Ah, me vuole uccidere lui? Che pezzo di merda Che peli stifugnazzi magici in faccia Eh no Eh no, pietà no Uccidilo How dare you ask for mercy after attempting an assassination? After revealing your conspiracy to me? You deserve nothing less than death I will not go down without a fight Mamma mia ragazzi Quindi così abbiamo perso anche la cura Abbiamo perso anche la cura Siamo di nuovo a punto e capo Oh no, non è morta She needs to be tended to We should leave right away Is she going to survive? Yes, she will heal They were not shooting to kill her And we are resistant, you know The bond empowers us It gives us the vigor of animals The resilience of trees It's undoubtedly for that reason That your alliance is so interested in us He does not mean to harm you Please, let me What do you want from me? Ranaikse We were manipulated by the alliance We had no idea that they sought to capture you We believed their fable of a miraculous remedy We killed the man that wounded you He will hunt you no longer And their governor will have explaining to do I suppose I should thank you for having pulled me from their claws And bringing me here And to have crushed the life out of a few of these parasites There is indeed a remedy But I doubt that I can do anything against this sickness that you describe I don't know it And I don't see how I could create a remedy that would Perhaps you could try This remedy was prepared for a precise purpose To heal those who escaped the claws of the alliance These monsters capture the Sinul Mennoi And torture them Those that do escape are in such agony that our care and come That's why I made this remedy Not for your Malikor My people have never fallen How can you be so sure? Perhaps Perhaps Anon Mil Frictum God of a thousand faces in your tongue The one and many who protects us and our day and we are tied and bound As they are their generosity to our people is infinite But the crime of the renaixi enrage it after all Perhaps your Malikor is their vengeance Okay guys Quindi è stato Livello 20 Quindi è stato il proprio il governatore A manipolarci Io pensavo si trattasse semplicemente di Pensavo semplicemente si trattasse di una spia O di una fazione interna dell'alleanza Invece insomma il governatore stesso io direi che È il momento di andare a farci quattro chiacchiere Vai al villaggio indicato da Petrus Però la missione ci indica Alla missione del culto demoniaco E quindi al momento non possiamo Non possiamo svolgere questa qua dell'alleanza Ragazzi è stato il governatore in persona Ovviamente nel momento in cui dovremo prendere una scelta finale Dovremmo tenerla seriamente in considerazione questa cosa Sicuramente l'alleanza non fa per noi Allora io direi di partire Ok Allora la prossima missione si trova qui Perchè dobbiamo andare al villaggio che Petrus ci aveva indicato Magari ce la possiamo anche portare dietro E qui Allora un attimo però Vediamo un attimo Facciamo un change Facciamo un rapido change Vasco c'è ancora la missione In ballo Aggiungiamo Petrus Ok Ah e qui compriamo anche delle Vediamo se ci dà degli ingredienti Ambra, ferro, rubino Biancospino Non prendiamo tutto Perché questo qua ci serve tantissimo Per un sacco di cose Direi che possiamo ripartire Ok ragazzi Allora Questa zona qui Io ho fatto delle quest secondarie Nella stream Fatta qualche giorno fa E Vabbè Niente È una zona piuttosto difficile Proviamoci Proviamoci Però C'è anche da dire che Sono salito di livello Sono salito abbastanza di livello Quindi magari Riusciamo a combinare qualcosa di buono Ma ora lo scopriremo subito Allora Noi dobbiamo andare tutto qua destra Missionaria Ah Tu sei dal continentale Non sei? Tu sei diversa Che le persone Da qui Delicato di vedere Volevo Sistra Efesia Padre Petrus È davvero tu? Che ti fai qui? Mere un chiamato Come? Parla dell'indagine sugli eretici Parla del suo arrivo al villaggio Come ha avvenuto la tua missione Fai fino ad ora Sistra Non è molto bene Spero Non mi sapevo Non ho potuto Mettere molto Dottore delle vittorie Il loro città E il loro Pioce Il loro comportamento Può essere abbastanza Ma Poi Dopo che Siamo vicini Mi chiusano Mi Non c'è Un'altra Questa Di Non Magari Tu Powi Sperate Sperate Può parlare Di Cosa Quali Dottore Mi 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 andiamo via adesso non mi ricordo di preciso sta missione raga avevo parlato con uno dei governatori che me l'aveva assegnata su questo villaggio però non mi ricordo in che modo può essere utile per per la malicore comunque accampamento ci facciamo una chiacchierata interroga d'aldre il capo del villaggio interroga d'ordine il capo del villaggio ok dobbiamo fare tutte queste qua iniziamo con uno tanto l'uno vale l'altro credo adesso col dialogo comunque secondo me scopriamo mi rinfresca un attimo la memoria su quello che eravamo in mente a fare cosa cerchi parla dell'indagine magocrazia della magocrazia chiedi delle isegliate l'indagine della magocrazia ma non ci sono i guerri siamo a fare la guerra i quelli che non conoscono come combattere hanno nessun posto Come c'è? Ok, indagini della magocrazia, credenze del villaggio, indagini sui loro rituali, chiedi del demone. Ok, rituali. Che puoi raccontare sui rituali? Ah, ho sentito questa questione prima. I rituali sono il business della Donegada, non di qualcosa di più. Concernando questa storia su un culto... Certo! Certo! Sono felice di riuscire a convincerti. Ora potremo ritrovare le tablette e gli exiles saranno una clan qui. Ok, vabbè, questa qui è la missione del recupero tavoli, raga, che... Era... Era di una missione secondaria. A noi ci interessa più che altro... Questa qua, però, per il momento. Andiamo a parlare qua dentro. Ciao. Sei sei... Prendoso questo paese. Voglio domanda... The people of your island are constantly asking questions, yet reject any... Questions have no value when one already... But... It is your case. You believe you know the answers answer your own questions. At least then the answer... That is not what I... Qua'awelemseg. May your answers fill your day. I'm talking about the inhabitants of the village. I'm talking about everything. Scusa, dove cacchio devo andare di qua? Aspetta. Ci sarà uno disposto a parlarmi, forse questo? Allora, rispondi. Ok, chiedi sulle credenze. Chi vive il demon? Non c'è solo uno. Non posso dirvi più se non sei più preciso. Proviamo qualcosa di altro. Sei in Olmenaoui con la tua terra? O aveviste il tuo link da i tuoi bambini? Non sono incontro, o almeno non ho fatto nulla in particolare. Allora sono i tuoi bambini. Uno di loro, almeno, deve essere il tuo turno. Chiedi dei missionari, chiedi dei rituali, chiedi delle rituali. Oh, vedo cosa ti interessa. Tu vuoi sapere come i nostri guerrieri sono così forti. Ma non ho una risposta. I rituali che conosco sono fatti per celebrare la natura. E' stato divertente. Più che con una donna che fa luce, non voleva giocare. Ok. Boh. Ma non sto capendo che cacchio... Vabbè, proviamo a parlare con lui. Niente, questo non mi risponde. Eh, qua si stanno tutti pregando. Quelli che pregano non rispondono. Questa se n'è andata. Proviamo a esplorare, non so. Forse su di qua. Questa sembra tranquillo. Con questo si può parlare. Che dire del diamante? Che noia questi diavoli però, raga. Cioè, dopo un po'... Cioè, adesso scusa, il video mi fa fare sempre le stesse domande a tutti quanti. ci sono. Cioè, mi ha fatto fare le stesse domande, alcune, per ricevere le stesse vaghe risposte, senza... Cioè, i dialoghi non... Cioè, parla con la sorella e tipsia delle informazioni ottenute. Cioè, quello che voglio dire io, che vabbè, io non so, ad esempio, l'ultimo gioco che ho giocato può essere decollegato a questa tipologia. Ah, me ne devo andare. Ma non volevo neanche entrare in casa sua, per la verità. Tipo The Witcher 3, cioè, i dialoghi su una risposta multipla sono più... ...entusiasmanti. Non dico che siano brutti i dialoghi di questo gioco, però... No, l'investigazione è stata stale. The villagers non potrebbero... Perhaps you should talk to them. They may speak to you. I managed to exchange a few words with some villagers, but I admit... And did they tell you anything worth sharing? I know little more about their beliefs. They worship nature, and it is certainly different from the Luminous Faith, but... ...it's hardly demonic worship. Yet, there's something strange about them. One of the villagers that spoke with me seemed truly worried. I think I know of whom you speak. A man always looking over his shoulder. I tried to get into his hut to see if he was hiding anything. Then we should give it a try. Perhaps we'll fare better. That fellow was really nervous. Requisisce la casa dell'home preoccupato. Distrai l'home preoccupato. Ok, dobbiamo distrarlo e scoprire che cacchio sta combinando questo tizio. Distrai l'home preoccupato. Abbiamo del villaggio e distrai l'home preoccupato. No, mi sono perso i dialoghi, raga. Mi sono andando dei suggerimenti su come fare.